Ci sono storie che sfidano il tempo e giungono fino a noi, storie belle per la loro semplicità e profondità, come il Natale di Fortunato di Guido Gozzano, pubblicato per la prima volta su Adolescenza del 25 dicembre 1910 e ora riproposto dalla Graffè.it edizioni nel libro Fiabe di Natale. Natale è più bello che un libro.